Da dove nasce la mobilitazione a cui anche la CGL di Rimini parteciperà sul tema delle pensioni? La mobilitazione nasce dal confronto che è aperto con il Governo per quanto riguarda la modifica della legge Fornero e altri provvedimenti allegati ed è il frutto di un'intesa raggiunta nel 2016 al tavolo con il Governo dove si prevedeva in questa fase di riaprire il confronto e cominciare a correggere quelli che erano i provvedimenti ingiusti previsti dalla legge Fornero approvata alcuni anni fa. In Italia per effetto di questi meccanismi di aumento si arriverà ad andare in pensione a un'età tra le più alti in Europa. In effetti le riforme pensionistiche ci sono state in tanti altri paesi europei ma il massimo di età pensionabile che noi vediamo in tanti altri paesi è 67 anni. Qui nel nostro paese si arriverà a 70 anni e oltre. Purtroppo gli incontri che si sono susseguiti non hanno portato risultati tant'è che abbiamo giudicato insufficiente i contenuti del tavolo e di conseguenza abbiamo intanto promosso una prima giornata di mobilitazioni per sabato 2 dicembre che coinvolgerà l'intero paese con diverse manifestazioni. La discussione si è prolungata purtroppo una richiesta di tutte le organizzazioni sindacali di bloccare questo aumento di 5 mesi si è arenato di fronte all'indisponibilità da parte del governo. Il governo ha presentato una proposta che prevede il blocco di 5 mesi per 15 categorie. Noi non condividiamo questa cosa perché il blocco doveva riguardare tutte le categorie dei lavoratori perché già con la Fornero c'è stato un aumento molto molto pesante. Per quanto riguarda le donne che cosa denunciate particolarmente? Noi chiedevamo che le donne possano cedere alla pensione con un meccanismo di difesa cioè uno sgravio di contributi in proporzione ai figli. Chiedevamo un anno, praticamente riconoscimento di un anno per ogni figlio avuto chiaramente fino a un massimo di tre anni. Questo è stato riconosciuto, di fatto però è stato riconosciuto solo nei confronti dell'accesso alla pensione quale pensione appe sociale. Abbiamo visto per esperienza che le domande di pensione per appe sociale sono veramente esigue, il numero di domande accolte e quindi stiamo parlando di una plattea assolutamente non sufficiente. E sul fronte ai giovani, la loro condizione di precarietà e dal punto di vista delle pensioni, che situazioni si troveranno a vivere? Anche sui giovani è diventato indispensabile, necessario, obbligatorio intervenire. La precarietà ha un effetto anche nel lungo periodo perché per maturare i requisiti pensionistici è necessario versare contributi e quindi con le attuali regole un giovane si trova danneggiato, colpito due volte. Oggi, per quanto riguarda la certezza del lavoro, si trovano milioni di giovani in condizioni di precarietà ma questa precarietà la pagano due volte perché il giorno in cui matureranno i requisiti per la pensione non avranno versato, non avranno riconosciuto quei contributi che sono indispensabili a maturare una pensione dignitosa che possa permettere loro di riposare e di godere di una pensione quando avranno l'età della pensione. Per giovani intendo tutte quelle persone che hanno iniziato a lavorare dopo del gennaio 95. In questo caso queste persone, quando dovranno andare in pensione, per poter accedere prima dei 70 anni di età dovranno avere una pensione calcolata di un importo, di una certa cifra, superiore ai 1000 euro. Purtroppo, per poter raggiungere questa cifra bisognerebbe avere una continuità lavorativa che i giovani di oggi purtroppo non hanno. In questo caso, per poter andare prima di questa età dovranno avere delle situazioni lavorative che molto probabilmente saranno difficili da raggiungere. Nel territorio di Rimini, per quella che è la nostra realtà, la nostra economia dove il turismo è prevalente, ecco il problema è molto sentito da parte di migliaia di giovani, potrei dire anche lavoratori non giovani, ecco, perché lavorando pochi mesi all'anno e quindi con un versamento parziale di contributi anche questo è un elemento che rende le cose molto molto difficili. La cigelle di Rimini, come tutta l'Emilia Romagna, è impegnata sabato 2 dicembre a Roma alla manifestazione, a una delle cinque manifestazioni nazionali. Da Rimini, nella mattinata, partiranno diversi pullman, quindi invitiamo i lavoratori, i cittadini, tutti quelli interessati a sostenere questa battaglia, aderire, prenotare e partecipare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.